Era il più bello di tutti i suoi amici. Era il più forte di tutti i suoi amici. Era il più intelligente di tutti i suoi amici. Ah, come sono intelligente! Ma c'era un problema. Lui non aveva amici. Ma aveva un sogno. L'astronauta! Papino, papino, ho un sogno! Dimmi, figliolo. Io voglio fare l'astronauta! Ah, che ragazzo ambizioso. E come pensi di riuscirci? Non ci aveva mai pensato. Non riuscirò mai a diventare un astronauta? Che dici? Ehi, ehi, psss! Sono qui! Qui in dove? Sono Scaffale! Vai! Non demordere, anche tu puoi diventare un'astronauta. Proprio come me! Come? Come? Con molto impegno e dedizione, figliuolo. Ma prima di essere ricercatore astronauta dovrai andare a... L'università! Riuscirò, maestro! Lunga la strada e superare una difficile prova dovrà. E così iniziò l'allenamento pretesta. Alternando momenti di svago... Ad intense ore di studio. Ma alla fine... Papino, non ho passato. Non ho passato. Ma cosa? Il test. Io ce l'ho provato. Lo giuro. Non tentare anche tu la fortuna. Se sei un giovane ricercatore e vuoi farti sentire, Frascati Scienze è la cosa che fa per te. Contribuisci allo sviluppo delle eccellenze per la ricerca in Italia. Realizza il tuo sogno e dai forma al futuro. E così diventerai... Un astronauta! Allora 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 Grazie a tutti.